e noi ci abbiamo la conclusione domani non posso tornare sul tema del commissariamento dell'Italia dell'ingerenza che a mio avviso c'è stata tutta su un non leader politico perché Monti non ha ancora un suo partito non è ancora candidato e quindi è una richiesta, non me ne frega nulla se è arrivata per il timore di Berlusconi o di Vendola insomma si chiama ingerenza e basta ogni popolo ha il diritto di votarsi chi cavolo vuole, abbiate pazienza perché stiamo scherzando Grazie